Olivetti calcolatrici serie 14CR Le calcolatrici elettriche scriventi a carrello automatico per servizi contabili serie 14CR vennero prodotte dall'Olivetti a partire dal 1950, l'elettrosumma 14CR e la multisumma 14CR, dal 1952, l'elettrosumma 14CR banca e la divisumma 14CR e 1955, l'elettrosumma 14CRS I vari modelli condividevano la base meccanica delle calcolatrici olivetti della serie 14 con un carrello automatico per i servizi contabili o bancari Tre modelli condividevano la meccanica delle Olivetti elettrosumma 14 L'elettrosumma 14CR eseguiva addizioni e sottrazioni con un carrello automatico a doppia inserzione L'elettrosumma 14CR banca aveva le stesse prestazioni del modello precedente ma con un carrello con funzionamento a navetta per la compilazione di prospetti numerici L'elettrosumma 14CR è se stesse prestazioni del modello base ma con una tastiera laterale con 10 simboli esteticamente simile alla multisumma 14CR ma non eseguiva la moltiplicazione ma stampava alcuni simboli speciali sulle schede La multisumma 14CR condivideva la meccanica della multisumma 14 eseguiva addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con un carrello automatico diviso in due parti per moduli fino a 36 cm La divisumma 14CR condivideva la meccanica della divisumma 14 ed eseguiva addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni con un carrello automatico Questi 5 modelli sono attualmente difficilmente reperibili Grazie! 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 Grazie!